più spesso ciao ragazzi questi sono i livelli più epici del mese e ora però cominciamo a giocarci un attimo il volume mi sono dimenticato ok direi che cosa può andare bene uuuu epico sembra oddio che caspita sta facendo oh mio dio caspita è successo oddio no riprendi qualcosa riprendi qualcosa vai ci arriva no non ci sono ancora l'ho preso o no vai prendila lì davanti a te ok non l'ho ancora preso come faccio non l'ho ancora preso ah se devo riprovare a cosa fare vola oh mio caspita vola oh mio dio oh mio dio precipitiamo attutito il fatto vola verso la libertà via andiamo a scantarci si e caspita sono finito oddio sono ancora vivo dove è finito il drago siiii troppo epico sta cosa però per una buona volta tenterei di farlo seriamente ok è proprio quello che intendevo vola 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 ok aspetta non ho le braccia non riesco a per comandarlo non ho le braccia e poi la di nuovo va ma perché mi schiorilla adesso cadere di sotto ecco proprio così se voglio oppure no no dove sono finito prendilo vai 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 c'è il mio braccio che gli pensano a fare addosso per una buona volta riesci a fare una cosa seria ok vai vola ok a caspita di tessata fatto no 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 oppure oh dio è tutto ok sta bene sto bene è un'impresa eh sta roba vola oddio mio ahhh vai 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 superi pop è stupido coso oddio mio Ok Ma è impossibile fare sta roba Stupido drago Drago pazzito com'è Poi questo è un drago Sembra un qualcosa che non è un drago Oddio mia Sì sì vola vola Però vai anche di là no Sto andando io indietro Sto andando indietro non mi piace sta roba Sta volando Vola di là Vai 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 Magari va un po' avanti no Sai no Troppo avanti forse no Non pensi E muovi Dei tornare giù su Sì Evviva Se lo farò a commandare su robo No Ma sì Vai avanti Oh 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 Se lo dico io va Allora piano 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 Ma sta andando lì indietro sto coso Allora Proviamo ad andare Oh Vai 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 Pensavo che ce la stessi facendo Vai 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 Troppo Troppo in alto Vai 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 No Ma come, caspita stava, e lo puoi andare al contrario Sì, se mi manca funzione è andare al contrario Ma non troppo in alto, non troppo in alto Caspita stava accendo L'ho superato Ma va Ma va a cagare Vai Ma è l'impresa impossibile superare sta cosa Come se mi aspetta si fa Uh, 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 vai, vai, vai Sì, sì, no, 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 no Non ce la fa, ce la fa, ce la fa Proviamo a andare da salone davanti Ma Prendi la testata e va Non ce la faccio Non ce la faccio Vola Non ce la faccio superare sta maledetta cosa Tu sei un drago orribile poi E vola di nuovo Verso l'infinito E chissà dove Yeee Sì Basta Basta È impossibile sta roba, mischiola Ma sì, perché no Ho dovuto far ripartire tutto da capo Perché È stata una cosa incredibile Non avete idea di quanto tempo ho dovuto aspettare Sono andato su YouTube Ho guardato il trailer di qualche film Vabbè, comunque adesso ci siamo Uh, sei molto simpatico Così, mi schio linda Aaaaaaah Che caspita gli è successo Avete visto cosa gli è successo? È epico Ah, ah, ah Sì, Jimmy Così mi pare Piano? Va bene, va bene Va bene Capito Andrò piano Siamo qui E Jimmy Vola Oddio mio Va bene Non c'è volare Lo davo per scontato Jimmy Per scontare Io vado piano piano Oddio Vado davvero molto piano Ah, sì Bisogna andare pianissimo Ah, guarda C'è Jimmy Con me Guarda Jimmy Che sta facendo Un attimo Ok, Jimmy Che è tutto di sotto Ok Mute Benissimo Jimmy Vola Non so volare Ho capito Cosa cazzo Mi è successo Oh, piano, è vero Ah, certo C'è questo di Jimmy Allora Stendere qui E tornare indietro Velocemente Oddio Oddio Sono grande It so Non so cosa significa Qui et Non so cosa significa R Non so cosa significa Scappa Tararara Questa mi uccide Oh Oppure no Oh Oppure no Sono grande E Jimmy È vero Oddio 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 Sono immortale Piano Uh Questo non me l'aspettavo Seriamente non me l'aspettavo Va bene Non No Superman Superman Conto Artok Forse abbiamo anche da fare Ok Vai Io Sono Un uomo Volante Sono anche un uomo morto Molto morto anche Ok Dovrò essere più volante Dovrò essere più volante Oddio 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 grande ha perso la testa seriamente ha perso la testa ok uh epica sa roba non ho parole sono un grande scusami non volevo sono un grande anche in questo modo ho soltato due spade ho adesso zero ho complicato tutto questo qui poverino guarda come le mangio tutti uno due e tre sono un grande oddio è ancora intero vabbè non è nulla di che si un ratto fortissimo davvero sembra una cosa abbastanza carina credo che queste cose cadano no non cadano veloce jimmy papà caspita è andato oh mio dio tutto questo benissimo sto benissimo non è nulla di che adesso adesso jimmy è vivo va bene va bene sfigato vola jimmy papà jimmy va oh oh chi sei tu per dirmi questo ok sei un fantasma jimmy papà papà ok ok come sempre muore iper velocità va bene va bene va bene oddio ok papà jimmy ok è già caduta jimmy papà jimmy ce la farò io sono tuo padre lo sapevo ah sì sì benissimo ma sì dai e continua ad andare per quanto tempo andrà avanti fino a lì vabbè benissimo no questo l'abbiamo già fatto episode scappiamo dalla scatola sembra una cosa lollosa tutta la oh dio sono vivo sono vivo sono vivo vai vai sì grande io non avrei saputo fare meglio comunque ci voglio riprovare ok sappia amico che io sfonderò questo vetro a testate se è necessario ok mi sa che non ce la faccio per sfondarlo quindi faccio così posizione incredibile così non posso morire come no no dai per pochissimo vabbè allora questo avevo già fatto specful red bar ragazzi questo sarà l'ultimo livello che facciamo per oggi sì vai ule siamo dentro la palla rossa che sembra un po' una pietinata in realtà sto livello grande però sì ma anche ci sono delle persone a schiacciare ci sono sempre delle persone a schiacciare in questi livelli uuuh oh sembra l'olio ce l'ho fatta per quanto tempo devo salire c'è la vittoria sì non è stato un bel livello comunque sì un pochino sì ma non era quindi questo era uuuh lol voglio fare anche questo eh mi sa che è più il sesso no ce l'ho non c'è che oltre che non volevo stare Babà Natale no dai vola lol però io volevo stare questo qui eh allora allora saltiamo verso la libertà non era quello che tedevo davvero non era quello che tedevo anche questo ho un'idea vai sì no non ci credo pensavo di vincere uuuh vai vai no ule ule no vabbè facciamolo seriamente uuuh che c'è vai uuurg no no dov'è il mio cosa dove è finire e l'ha andato all'interno mi schia se l'avrei fatto se l'avrei nullato ok questa non l'aspettavo wow vai ecco le possibilità vai vai è morto wow wow oddio oddio ah vai posso uscire da qui ah 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 uuuh lo sapevo che poteva uscire wow questa non me l'aspettavo anche ta 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 oh oddio 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 3 2 1 salta vai precipito va bene giuro che farò questo livello vabbè fate affitto che ho fatto questo livello quindi ciao ragazzi e al prossimo episodio ah e ricordatevi di non fare mai questo eh ciao ciao ciao